mamma mia non muore, non muore mannaggia, non muore qual cacchio vabbè è stata dura che cos'è? diamond shield produzione dei proiettili, bella, mi piace dunque dobbiamo giochiare prima che ci rompono perfetto, siccome sono mastro strategia allora noi facciamo così moriamo qui e ce la facciamo così dunque salve eccola tutto bene? mi fa piacere cominciamo mamma mia quanti sono sono un po' troppi e muori stupido lagnoso mamma mia troppissimi veramente mamma mia non ho posto questo va il genio del crimine ma ci abbiamo lo zombie intelligente sei andato di la tutti di la sono intelligenti quindi sono qua dietro sono tutti qua dietro oh morite ecco qui che cacchio è? dopo aver salito ma come cacchio fanno ad avvelenarmi a distanza dai cacchio fanno ad avvelenare e oh no ma non sono vista molto brutto ok procediamo un valvo m dunque 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 lì l'abbiamo distrutto no non l'abbiamo distrutto bisogna agire porcaccio la miseria ma se che faccio così non si distrugge non si destrugge mmm è già è uno stracacchio di casino questo cos'è ma che cos'è protezione di cogliettivo 2 è uno scudo cos'è ma tutti io divredo gli scudi più sclausi vabbè allora oh tu ci fai qua ma porca miseria merda 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 muori perfetto così ce la facciamo ce la possiamo fare ce la possiamo fare ma perchè la butti non la buttare non la buttare mannaggia mannaggia pure l'arco ho buttato ma perchè li butta non li deve buttare ma poi qui no no fanculo me ne vado ci rinuncio no mirco non rinuncia dunque 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 qua tappiamo mi sono rotto un po' le balle ok ok se tappiamo qui non succede nulla di grave ok tutto tappato ora mamma mia è brutto allora dobbiamo mangiare beh questo sempre ci ha fame ma che modo ma che modo per più attendo peggio è mi sa peggio e muori tante storie per morire muori muori sì sì vabbè poi se ci mette pure lui dai muori ok lui muore pure tu devi morire anche niente sti dungeon si fanno da da sotto verso sopra finiscono vabbè e allora torniamo perché siamo anche che ideona eh già eh già già siamo sott'acqua quindi eh già 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 ok ok salve c'è dell'acqua non fa l'effetto desiderato perché che cos'era che cos'era che cos'era che cos'era ti piglio colpi di carota muori ma mamma mia ma sta colpa bene ok proviamo a salire che cazzo che cazzo che cazzo acqua adesso qua sotto ma che idiotico andavi non si sale si sale non si sale si sale non lo so va bene va bene allora si usa il metodo alla alla Mirko come è il posto non so cosa sia questo pomodino ma comunque una bella TNT non ci stava male si mi sa che mi sono sballati un pochettino i tasti eh già eh va bene mmm ma questo cos'è boom vabbè mmm che ideona uuuu 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 siuuu venite pure venite pure uuuu io sottacco e ci respiro uuuu 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 uuuu